In questo video torniamo a parlare di tecnologie, dopo anche un po' di tempo, nello specifico stavolta parliamo di tecnologie front-end e ancora più nello specifico di framework front-end. Per anni, diciamo, la scena è stata totalmente occupata dai tre principali framework utilizzati ancora oggi globalmente, React, Angular e Vue. Nelle ultime statistiche di State of JS che sono uscite all'inizio anno e all'ultima parte del 2022 sono emersi però alcuni nuovi framework, tutta una serie di altri fratelli che stanno catturando un po' l'interesse per quanto riguarda il mondo front-end. In passato abbiamo avuto svelte, ci sono state altre librerie, framework, progetti interessanti che però non hanno ancora preso piede drasticamente come invece i tre grandi fratelli hanno fatto nel tempo. Oggi ne andiamo a esaminare uno in particolare, ovvero Astro e chi poteva fare questo lavoro meglio del re a livello italiano per quanto riguarda il mondo front-end e nello specifico anche il mondo dei framework, ovvero Fabio Biondi. Vi abbiamo chiesto di collaborare insieme a noi, si è prestato gentilmente, quindi vi lascio a quello che è la sua visione, a quello che è stato il suo riassunto che ha fatto gentilmente per noi per quanto riguarda Astro. Prima di iniziare vi ricordo che se il video vi piace mettete un bel like, iscrivetevi al canale, entrate a far parte della community su Telegram, seguitemi su LinkedIn, su Instagram e sui vari social e soprattutto in descrizione potete trovare un'altra serie di link interessanti con una serie di risorse che abbiamo messo a disposizione per chi parte da zero o per chi vuole organizzare la propria professione come developer e niente, vi lascio al video di Fabio. Ciao! Ciao Simone e un saluto alla Tutala Community di Tomorrow, Deb. Oggi rispondo alla tua domanda, cos'è Astro? Astro è un nuovo framework front-end che principalmente serve per creare siti statici. Utilizza principalmente due tecniche, il server site rendering oppure riesce a dare il suo meglio nella static site generation, quella che è chiamata appunto SSG. Nel mio caso l'ho utilizzato ad esempio per creare il nuovo blog, quindi non si tratta semplicemente di una landing page statica, è possibile comunque andare a inserire degli inserti interattivi e vedremo come Astro riesce a dare il suo meglio utilizzando un'architettura chiamata Islands, quindi architetture a isole. Nelle prossime slide cercherò quindi di condensare quello che ho imparato in questi ultimi due mesi sviluppando in Astro e cercandovi di far capire effettivamente quando e dove potrebbe essere utilizzato nella pratica. Prima di parlarvi di Astro però, voglio farvi notare che oggigiorno noi sviluppatori front-end abbiamo un problema. Quando dobbiamo sviluppare un nuovo progetto, abbiamo una bellissima idea e dobbiamo iniziare quindi a scrivere il codice, il primo ostacolo è quale tecnologia front-end utilizzare. Potremmo utilizzare Angular, Svelte, React o Vue che sono quelli un po' più gettonati del momento, oppure i web components o fare un mix dei vari framework usando micro front-end, ma in realtà il problema oggi è ulteriore, è ulteriormente complicato, perché non solo possiamo scegliere se sviluppare una single page o una multi-page application, ma abbiamo le progressive web app, abbiamo poi tecniche quali appunto la static site generation, l'incremento a static generation, server server rendering, client server rendering, React server component e chi ne ha più ne metta. Ce ne sono veramente tantissime e inizia a essere problematico. Infatti, se fino a qualche anno fa la guerra di framework era sulla parte di client-side rendering, quindi con Angular, React e company, oggi i nuovi framework invece si stanno principalmente focalizzando sulle performance. Iniziamo ad avere quindi tutte queste nuove possibilità di rendering. Quello su cui questi nuovi framework si stanno concentrando è l'ottimizzazione delle performance e delle metriche dei web vitals, che sono tenuti in stretta considerazione allo scopo quindi di migliorare appunto la user experience. Il tempo di ricezione ad esempio degli elementi che compongono la pagina, quello che è chiamato time to first byte, oppure il tempo trascorso affinché la pagina diventi interattiva, per esempio time to interactive e così via, sono alcune delle metriche che vengono utilizzate per capire, per comprendere e valutare se effettivamente una tecnologia o un sito web comunque sta performando bene o meno. Esistono moltissime di queste metriche e quindi questi framework più o meno si stanno concentrando nel cercare di migliorarle con tecniche differenti tra di loro. Dato che il tempo a disposizione non è molto e penso sia inutile attualmente andare a descrivere queste tecniche di rendering, le varie metriche dei web vitals e così via, concentriamoci invece sul framework, quindi su Astro. Inizialmente il framework nasce come static site generator, quindi per creare, come dicevamo, siti statici, siti che possono essere appunto un blog, una landing page, una testata giornalistica, dove sostanzialmente dobbiamo dare priorità ai contenuti che devono essere visualizzati nel più breve tempo possibile proprio per migliorare la user experience. Il framework deve essere, per quanto riguarda i goal dei maintainer, veloce di default e deve caricare pagine senza la necessità di utilizzare JavaScript che di solito è uno dei parametri che va a penalizzare una single page application che per essere visualizzata deve prima caricare tutto il bundle JavaScript. In questo caso non sarà così e deve essere semplice da utilizzare. Supporta inoltre server-side rendering anche se devo dire che il suo meglio, almeno per quanto mi riguarda, penso che lo dia utilizzandolo come static generator. Ad ogni modo, quando carichiamo una pagina sviluppata in Astro possiamo aprire i network dev tool e vedere che effettivamente non c'è JavaScript. Ovviamente finché non abbiamo inserti interattivi e vedremo poi come verranno gestiti. Per quanto mi riguarda, ho scelto Astro per la possibilità di mixare all'interno della stessa pagina diverse tecnologie front-end. Come vedete, una pagina potrebbe essere composta da un header creato proprio con i componenti Astro che sono forniti dal framework. Oppure potremmo avere un componente Vue, uno React, uno Svelte, Delete Component. Ovviamente un'estremizzazione del genere ha poco senso, ma pensate ad una pagina, di una testata giornalistica, dove vogliamo dare priorità ai contenuti che come abbiamo visto possono essere caricati velocemente in modo immediato. E poi all'interno abbiamo un componente interattivo che magari vogliamo sviluppare in React o con la tecnologia che preferiamo. Ecco un caso in cui questo approccio potrebbe essere molto utile. E questo approccio è possibile grazie a quella che viene chiamata architetture a isole, che ci permettono sostanzialmente di caricare i contenuti subito, come vedete, senza JavaScript. E ora, solo alla fine, se avete notato, vi faccio rivedere la schermata, solo quando arriviamo nel footer che è un componente interattivo in React, nella network DevTool vedremo appunto la parte JavaScript caricarci, quindi il framework React e il nostro codice. Creare un sito in astro è molto semplice, come vedete, come in qualunque altro framework, è sufficiente un comando per avviare la CLI che chiederà poi il nome del progetto, se vogliamo appunto lo strict mode o meno di TypeScript, quale appunto template utilizzare, e siamo subito pronti a produrre il nostro sito. A questo punto avremo una struttura del progetto simile a questa, dove vediamo principalmente tre cartelle. abbiamo le pagine che sono sostanzialmente le nostre root, che sono basate sul file system, un po' come in Next.js o in framework di ultima generazione, quindi in base al nome della pagina viene creata anche la root. Abbiamo poi i layout che sono dei componenti riutilizzabili, quindi molte pagine potrebbero condividere la stessa navigation bar, la stessa sidebar laterale, e così via. E poi abbiamo i componenti che sono quelli che effettivamente servono per andare a creare le funzionalità delle nostre pagine, un po' come qualunque framework di ultima generazione. E ogni pagina può essere quindi composta da diversi componenti di tipo Astro oppure mixando diverse tecnologie front-end, proprio come abbiamo già detto. I componenti Astro sono semplicemente dei componenti che contengono HTML e poco JavaScript, che devono essere ovviamente semplici da usare, possibilmente riutilizzabili, hanno un'estensione Astro e sono strutturati in questo modo. Nella parte con i tre trattini simili a quelli del Markdown abbiamo la codice JavaScript, sotto abbiamo il template HTML e il CSS. Un componente è banalmente scritto in questo modo, vedete abbiamo un import, in questo caso di un componente card, e all'interno il template del componente la utilizza. E questo componente card, come vedete, ha un titolo che banalmente viene utilizzato come una prop, per chi viene da React o da Angular, insomma, dovrebbe essere abituato a questo meccanismo, e poi abbiamo la possibilità di utilizzare slot. Quello che in React sono i children, in Angular l'NG content e nei web componenti in view si chiama sempre proprio slot. I componenti Astro sostanzialmente possono anche supportare Typekit, come vedete qui ho tipizzato le props, hanno una sintassi tipo JSX, dove vedete il title che viene visibile solo effettivamente se esiste, questo è molto simile a JSX. Le proprietà sono in sola lettura, non possono essere scritte e non abbiamo la possibilità però di avere reattività. Questo fa sì che il nostro codice poi possa diventare statico in fase di build, quindi non possiamo aggiungere interattività come un onclick o altro. E sono dei semplici template, in poche parole, e vengono eseguiti solo una volta in fase di build. Quindi non possiamo inserire in un pulsante un onclick, questo perché? Perché gli attributi vengono convertiti in string e quindi non funzionerà in fase di build perdiamo questa interattività. Quello che però possiamo fare è andare semplicemente a inserire un tagscript e con un po' di vanilla javascript fare in modo che poi questo script venga convertito in fase di build in quello che vedete qui sotto. Comunque, se avete componenti con molta interattività, ovviamente tornare a vanilla javascript non è una gran soluzione, abbiamo appunto la possibilità di creare componenti in react, preact e via dicendo. quindi possiamo utilizzare la tecnologia che più ci aggrada con quella con cui abbiamo più confidenza, per esempio. Come funziona il server server rendering o la static generation nel caso di acquisizione dei dati? Come vedete nella parte di tre trattini, quella di javascript, possiamo semplicemente invocare una REST API e sotto con un banale map visualizzare una lista di elementi. Interessante anche che Astro supporta il markdown. Nel mio blog per esempio tutti gli articoli sono scritti in markdown, anzi in MDX che è una versione potenziata di markdown nel quale posso anche inserire per esempio componenti react e in questo caso vedremo che non andremo a fare nient'altro che usare una funzionalità che si chiama Astro Globe, prendere dalla cartella post tutti i file con estensione MD e MDX e poi visualizzarli all'interno del nostro component esattamente come abbiamo fatto prima. Questo ci permette quindi di creare facilmente un blog per esempio in markdown dove ogni articolo poi appunto scritto con un file a sé stante e per fare effettivamente una modifica è sufficiente aprire il file modificarlo e fare un push. Come dicevo all'inizio la parte interessante è anche la possibilità di mixare diversi componenti creati con vari framework in questo caso vedete una pagina dove ho incluso un componente react uno svelto uno view uno astro e un componente poi semplicemente markdown e questo è possibile grazie all'utilizzo delle direttive delle direttive che ci offrono la possibilità di creare queste famose isole ognuna di questi componenti creati con tecnologie differenti rappresenta appunto un island un'isola alla quale possiamo assegnare anche una diversa priorità che sarà utile per determinare quando verrà effettuata l'hydration del codice javascript ovvero quando il nostro componente diventerà interattivo ad esempio la priorità load è quella massima verrà idratato il codice javascript immediatamente al load della pagina idle è una priorità secondaria ovvero subito dopo il load poi possiamo eventualmente decidere di idratare il codice in base a una media query o alla visibility ovvero quando il componente diventa visibile nel nostro viewport e qui vediamo proprio l'esempio dove abbiamo un'applicazione che scorrendo vedete a destra carica svelte poi il componente lit il componente view qui ho applicato la direttiva visible e infine a react oppure in questo caso vedete che svelte ha idle priorità secondaria mentre lit ha la priorità diciamo load che è quella primaria infatti vediamo nella terza riga del network dev tool che lit è già stato caricato e svelte subito dopo quindi pur avendo un posizionamento nel nostro template prima svelte e poi lit le priorità sono diverse quindi è caricato prima lit e poi svelte poi andando avanti andiamo a vedere che scrollando la pagina view non viene ancora caricato mentre caricherà react perché ha la direttiva visible view attualmente carica il contenuto ma vedete il counter per esempio non è interattivo fino a che non scatta la media query carica idrata il nostro codice e allora diventa interattivo ovviamente di cosa da dire ce ne sarebbero molte la tecnologia comunque come vedete è interessante permette di fare tante cosine che effettivamente sono difficili da mettere in pratica con altri framework più conosciuti più blasonati tuttavia investire del tempo per studiarlo beh io sì perché a me piace studiare cose nuove e soprattutto visto che la tendenza dei nuovi framework sta andando in questa direzione quindi migliorando tutto il processo di hydration mi piace iniziare a sperimentare con questi nuovi framework che vanno da Astro a SvelteKit Next Naxt Gatsby e via dicendo e quindi farmi un'idea di come funzionino attualmente per piccoli siti io consiglierei di utilizzarlo senza problemi quindi una landing page se proprio vogliamo un blog e così via in produzione per progetti e clienti molto grossi onestamente penso che rimarrei su un più sicuro e stabile Next o eventualmente anche se a me non piace molto per vari motivi su Remix perché sicuramente sono più maturi hanno dietro una community molto molto ampia diciamo che in realtà Next è il problema che si porta dietro comunque sempre del JavaScript quindi è meno performante rispetto per esempio a questo il server side rendering in generale è meno performante rispetto alla static generation quindi ci sono da fare diverse valutazioni per capire quale effettivamente è il framework che può fare al caso nostro certo è che andare su questi framework ancora un po' sperimentali è sempre rischioso ci potrebbero essere breaking change dall'oggi al domani e molto spesso la developer experience non è il massimo ci sono poi molto spesso errori lato server quando effettivamente magari ho commesso un errorino lato client ed è molto difficile da debuggare spesso l'errore non è così comunicativo così descrittivo da permettermi di comprendere al volo che cosa è successo quindi cosa devo fare in maniera empirica tolgo pezzi tolgo pezzi per vedere dove effettivamente ci sono dei problemi e non è il massimo questa cosa quindi un po' rischioso consiglierei di dare un'occhiata valutarlo usarlo magari per piccole cose ma poi eventualmente pensarci due tre volte magari anche quattro cinque volte prima di scegliere uno di questi nuovi framework bene spero che vi sia piaciuta questa introduzione e ci vediamo in giro ciao ciao ciao